Al premio Loi siamo con Marcello Frisone del Sole 24 Ore che ha appena ritirato la menzione d'eccellenza per il giornalista economico, parliamo di risparmio, è un momento importante per il risparmio italiano questo qui, come commenta questo premio? È sicuramente un bel riconoscimento a livello personale, però quello che mi preme soprattutto è che lo ritiro anche a nome di tutti i colleghi della redazione di Plus24, colleghi validi con i quali da diversi anni portiamo avanti tematiche legate al risparmio e che porteremo sempre più negli anni a venire anche attraverso un'opera di educational, di educazione finanziaria. Ringraziamo allora Marcello Frisone che ha appena ritirato il premio per il giornalista economico. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.